ecco queste sono le marche che sono più note nel senso che sono più che altro diffuse in italia dei pastelli morbidi si possono trovare facilmente i sennelier e sminker gli unison un po meno ma online potete trovare facilmente quindi sono pastelle che sono questi di fascia alta costosi qualità ottima e morbidi hanno un'ampia ampissima gamma di colori sicuramente sopra centinaia di pastelli che sono facilmente sfumabili un'altra marca facilmente reperibile anche i negozi delle arti e i tell talents rembrandt e quelli che vi ho suggerito prima quindi siamo nella fascia media e i giro anch'essi nella fascia media un po più morbidi si trovano soprattutto online si possono anche ripetere singoli castelli singoli pastelli infine come pastello duro quello che si possa trovare in italia soprattutto online e sono i faber castell polychrome che si trova venduta con scatole di vario formato io consiglio comunque sempre quella completa da 60 colori e sono pastelli duro indicato per linee e le fasi iniziali della pittura quindi quale acquistare ci sono tante marche disponibili come dico qua conviene sperimentare con maggior numero possibile di marchi prima di impegnare risorse in una spesa importante tieni presenti che i singoli marchi di pastelli hanno le loro caratteristiche alcune sono molto morbidi e vellutati mentre altri sono leggermente duri e granulosi ci sono così tanti marchi disponibili così tanti colori duplicati tra loro che rende l'operazione di acquisto piuttosto complicata a differenza di altri mezzi pittorici come sappiamo i pastelli non possono essere mescolati sulla tavolozza per formare altri colori e toni ma vengono applicati direttamente sul supporto quindi vengono prodotti separatamente e in un gran numero di colori in marche diverse se ne le per addirittura di una gamma di 551 colori quindi selezionare la quantità ai colori necessari è senz'altro un problema di scelta individuale un assortimento iniziale di 24 colori sarà sufficiente e prezzo scoperte quali sono i colori che vi mancano tutto ciò si traduce nella necessità di acquistare una quantità di materiale piuttosto importante il costo iniziale da affrontare è quindi maggiore ad esempio di quello necessario per dipingere ad olio ad un maggiore sborso iniziale corrisponde però un costo di esercizio più contenuto rispetto all'olio ben inteso a parità di livello qualitativo i pastelli possono essere acquistati singolarmente o in confezioni di colori assortiti e anche in set per usi specifici in base al tema come un paesaggio un ritratto o un set floreale di solito esistono anche sette selezionati da pittori famosi come per esempio richard mckinley set in aggiunta agli insiemi tematici gli unison sono venduti in vari set e scatole misti per famiglia di colori come per esempio il verde blu la terra verde gialla oppure la scatola di viola blu e così via molti di questi marco marchi hanno anche sette dedicati per le luci ai colori scuri e ai grigi quando comprate una scatola di pastelli morbidi li troverete sistemati in compartimenti separati in modo che non si toccano e non si sporcono l'uno con l'altro una gamma di base può comprendere circa 48 colori mentre una piccola serie 12 pastelli può essere sufficiente per disegnare l'aperto si può iniziare con una serie già confezionata e aumentare i pastelli man mano che se ne presenta la necessità